eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi come sempre prima di iniziare e supportate il tg code lasciando un bel mi piace ed iscrivendovi per non perdere tutte le prossime novità sul mondo di call of duty preparate perché domani ci sarà l'evento vortex quindi domani mattina uscirà un tg code con tutti gli approfondimenti gameplay in anteprima chi più ne ha più ne metta poi salvatevi il primo link in descrizione perché se dovete farvi qualche regalo già quest'anno come videogiochi nuovi videogiochi del passato comprare il game pass su xbox il plus su playstation gift card chi più ne ha più ne metta utilizzate il primo link così supporterete il mio canale oggi torneremo in live alle 14 quindi se ancora non avete fatto seguitemi sulla piattaforma viola poi se avete amazon premio potete fare anche la sub è gratuita per supportarmi quindi ci vediamo oggi alle 13 45 14 per giocare insieme partiamo ieri ragazzi mi è stato segnalata questa clip dove appunto si vede una sorta di gargoyle che sarebbe in arrivo praticamente come skin e come boss alieno all'interno del mondo di mv3 per quanto riguarda appunto zombies bene il leaker ieri office code ha dichiarato qualcuno ha confermato che si tratta del modello del gargoyle di call of duty ghost infatti se ben vi ricordate c'era la modalità estinzione di ghost vi faccio vedere l'immagine come ad esempio l'episodio 3 dove c'era questo gargoyle infatti lo ricorda in tutto e per tutto però è tornato sull'argomento l'insider legittimi gamers che ha detto che secondo invece le sue informazioni questo non sarebbe un modello uscito nelle ultime ore bensì un modello già presente dal lancio del gioco come residuo dei file di gioco di ghost e quindi al momento questa cosa sembrerebbe essere non certa come essere un rilascio e un contenuto per la stagione 2 ci torneremo a parlare a discutere nei prossimi giorni ma dato che ieri me l'avete segnalato ne volevo parlare ieri vi ho fatto un video su tutto quello che riguarda code 2024 mentre come avevo detto stavo prendendo altre informazioni da nuove fonti per nuovi dettagli in anteprima partiamo da questi qui che sono i primi leaks sulle score streak di black ops golf war vi ricordo nome provvisorio del nuovo capitolo di code 2024 ambientato nella guerra del golfo le serie di punti saranno automaticamente score streak che non ci sarà la possibilità di passare alle serie di uccisioni quindi non dovrebbero esserci le kill streak ma come sapete quasi la gran parte di tutti i titoli il 90 per cento dei titoli di trailer che sono sempre basati sulle score streak e non sulle kill streak come serie di punti le serie di punti probabilmente potrebbero essere raggruppate e il punteggio delle streak a quanto pare non dovrebbe rimanere in essere ogni appunto dopo la morte quindi si dovrebbe azzerare probabilmente metteranno come abbiamo visto in qualche precedente titolo di treyarch qualche perk che fa rimanere il conteggio anche dopo la morte parliamo invece di altre interessanti informazioni come ad esempio i perk di code 2024 vi ricordo queste informazioni cominciano a trapelare perché ovviamente sono contenuti all'interno dei file di gioco per il fatto che ormai i call of duty verranno tutti implementati all'interno del code hq e quindi con i vari aggiornamenti ci saranno e ci saranno sempre nuovi stringhe in anteprima dei nuovi capitoli partiamo con untap si inizia un invita con più di 200 punti verso le score streak double timer raddoppia la durata dello sprint tattico e dovrebbe arrivare per la prima volta in un capitolo di black ops e aumenta l'oficiato di movimento d'accovacciato del 30 per cento operative i nemici possono essere visti attraverso i muri per un breve periodo dopo la rigenerazione un indicatore del bordo dell'interfaccia utente lampeggerà quando un nemico è fuori dalla nostra visuale ed infine non lasceremo teschi delle morti quando uccideremo i nemici troveremo nuovamente sciacallo quindi ci riforniremo di munizioni dei giocatori morti e dexterity quindi ci sarà lo scavalcamento più veloce l'ads durante lo scivolamento e l'immersione e subiremo meno danni da caduta quindi come potete già vedere il prossimo capitolo a quanto pare di black ops prenderà gran parte delle dinamiche viste attualmente con mv3 e su warzone per tenere appunto un gameplay molto simile per non avere gameplay diversi tra multiplayer e il br invece vi riporto questi che sono invece i leaks sempre trapelati tra il giorno di capodanno e l'ultimo dell'anno per quanto riguarda la modalità zombies del nuovo call of duty partiamo da due mappe zombies dal lancio torneranno le mappe around di cui vi avevo già anticipato nei giorni passati e nel video di ieri ve lo lascio in alto a destra con le altre informazioni in anteprima su code 2024 ci sarà una mappa chiamata terminus island ma ovviamente prendetela sempre con le pinze perché i nomi possono essere ancora provvisori quindi una mappa della prigione con un laboratorio segreto e appunto una missione una mappa con la città con una banca con una stazione di polizia una discoteca e una chiesa e a quanto pare secondo le informazioni di horror leaks ritorneranno anche le meccaniche famose di cold war ma modificate per adattarsi al motore moderno di mv3 perché come sapete anche il nuovo black ops si baserà sul motore che stanno utilizzando gli ultimi call of duty ma vediamo invece cosa accadrà invece nel corso di questo 2024 proprio su tutto il franchise di call of duty perché sono attese veramente tantissime novità partiamo dalle cose confermate con ovviamente le nuove stagioni nuovi contenuti per mv3 e per warzone a quanto pare si ipotizzano sei stagioni anche per mv3 con domani l'evento vortex e il 17 di gennaio la season one reloaded poi 7 febbraio invece quello che riguarda invece le novità relative alla season 2 vi ricordo 17 gennaio ranked su mv3 le ranked su warzone si ipotizzano nella stagione 2 fortune keep si ipotizza tra febbraio e marzo mentre rebert island almeno a metà 2024 infatti già avevo indicato rebert island e fortune keep ritorneranno all'interno di warzone mentre a primavera probabilmente già intorno al mese di aprile barra maggio arriverà warzone mobile a livello globale vi ricordo che in questi giorni è stato rilasciato anche in germania nella famosa beta chiusa mentre i rumors e ripartiamo appunto da inizio del video si parla di code 2024 che dovrebbe essere un black ops più che altro chiamato golf war e sarà sviluppato da treier che ambientazione guerra del golfo nel 2025 ci dovrebbe essere una sorta di ipotetico seguito quindi una sorta di black ops sequel di vo2 trovate tutto quanto sul mio canale youtube con mappe rimasterizzate di mv2 e mappe nuove come è successo quest'anno con mv3 quindi potrebbe essere che stanno prendendo questo spunto secondo i più noti insider verdansky invece dovrebbe tornare su warzone alla fine del 2024 ne hanno parlato i tantissimi insider tra cui uno dei più accreditati che è stato tom anderson e confermò anche la testata charlie in tele trovate il video dedicato sul mio canale youtube basta cercare verdansky e trovere delle ultime informazioni e per finire una delle novità sicuramente più attese di questo 2024 per i processori di di game pass code dovrebbe sbarcare sull xbox game pass quindi a quanto pare si ipotizza che il prossimo capitolo di treier che se riesce minecraft arriverà già nel game pass inoltre i vecchi capitoli dovrebbero arrivare gratuitamente sempre all'interno dell'abbonamento di contenuti del microsoft e con questo chiudiamo ragazzi il nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty supportate un bel mi piace iscrivetevi se siete nuovi e vi aspetto oggi alle 14 live piattaforma viola